Una donna di 68 anni, residente a Padova, ma originaria di isola Caporizzuto, è morta domenica mattina investita da un'auto. La signora stava camminando quando all'altezza dell'incrocio tra via Bembo e Lungar Gineziani, nei pressi del ponte dei quattro martiri, è stata travolta da un'auto. L'impatto, purtroppo, è stato fatale. Nessun soccorso è stato possibile per salvarla. Alla guida della macchina a una BMW c'era un giovane di 21 anni, risultato positivo all'alcol test. L'incidente è avvenuto alle 7 del mattino. Il conducente della macchina è stato arrestato per omicidio stradale, aggravato dalla guida in stato di ebrezza. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Gli agenti hanno eseguito tutti i rilievi per ricostruire la dinamica.